Incapace di intendere di volere ma può subire il processo per il tentato omicidio di mogli e figli. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica eseguita su Daniele Alba, il meccanico di Cianciana. I fatti risalgono allo scorso 23 maggio. Altro episodio di violenza a danno dei medici stavolta è successo all'interno del carcere di Agrigento. Il presidente dell'ordine Pitruzzella dice così non si può andare avanti, tanti colleghi stanno scegliendo di lavorare nel privato. Incendi, quasi 5.000 incendi in Sicilia nel 2024, tutti di natura dolosa con danni incalcolabili. Sono i dati diffusi dalla regione che annuncia la realizzazione di una centrale di controllo regionale contro i piromani. Liceo scientifico di Menfi in attesa di trovare la soluzione alle criticità dell'immobile di via Mazzini. Il nuovo anno scolastico inizierà lunedì prossimo. Lezioni pomeridiane nel locale dell'Istituto Santi Bivona. Sicità e aiuti al comparto zootecnico. C'è anche l'accopagri di Sciacca, tra le organizzazioni professionali che si occuperanno di distribuire il fieno alle aziende colpite. Burgio, Caltabellotto, Sciacca e Sambuca, centri di distribuzione. In onda questa sera sulla nostra emittente Ciao Vicelo, spettacolo tributo della Compagnia dell'Isola a Vincenzo Catanzaro, deceduto il 12 settembre dello scorso anno. Uno spettacolo che ha visto il ritorno in scena di Liliana a Bene. Benvenuti su Telemontecronio per il consueto appuntamento con le notizie. Incapace di intendere di volere, ma può subire il processo e stare in giudizio. Lo stabilisce la perizia psichiatrica disposta nei confronti Daniele Alba e il meccanico di Cianciana che il pomeriggio del 23 maggio accoltellò la compagna e i figlioletti. Sentiamo Massimo D'Antoni. Mentre accoltellava la moglie e i figlioletti di 3 e 6 anni, Daniele Alba era incapace di intendere e di volere. Sono queste le conclusioni a cui è giunto il dottor Maurizio Marguglio, medico forense incaricato dal GIP del Tribunale di Sciacca Antonino Cucinella, della perizia psichiatrica riguardante il meccanico di 35 anni di Cianciana, colui che nel pomeriggio del 23 maggio scorso ha seminato il terrore nell'appartamento di Piazza Bellini dove viveva con la compagna e i due bambini. La relazione dello psichiatra si inserisce nell'ambito dell'incidente approbatorio necessario a completare il quadro investigativo. A richiedere la perizia è stata la stessa Procura della Repubblica, rappresentata dalla procuratrice Roberta Buzzolani, dai sostituti Brunella Fava ed Alberto Gaiatto. Alba è accusato di tentato triplice omicidio e maltrattamenti, ma è probabile che alla luce dei contenuti della perizia, secondo cui l'imputato è comunque in grado di subire il processo e di stare in giudizio, i capi di imputazione a suo carico vengano modificati. Per i maltrattamenti si stanno analizzando episodi risalenti ai mesi immediatamente precedenti all'aggressione più violenta. Alba, tuttora rinchiuso, da tre mesi e mezzo nel carcere di Agrigento, è difeso dagli avvocati Luca Burgio e Maurizio Gaudio. L'avvocato Carlo D'Angelo invece rappresenta la parte civile, vale a dire la compagna di Daniele Alba Aneta e i bambini. La vicenda è nota, balzò gli onori della cronaca nazionale. Daniele Alba aggredì la compagna, ma anche i bimbi. La donna, pur gravemente ferita, riuscì a fuggire insieme al bambino più grande, mentre il meccanico era rimasto solo con la figlia più piccola, anche lei colpita, poi da lui consegnata ad un soccorritore del 118, che coraggiosamente non esitò a raggiungerlo dall'esterno da una scala dei vigili del fuoco e a farsela consegnare dalla finestra per poterla curare. La moglie fu operata d'urgenza all'ospedale di Libera, i bambini invece furono trasferiti all'ospedale di Cristina di Palermo, subendo diversi interventi chirurgici. Per fortuna le condizioni fisiche nel frattempo sono migliorate, ma rimarrà in loro il trauma di quanto successo quel pomeriggio in quello che normalmente dovrebbe essere un luogo sicuro, la propria casa. Si è conclusa in queste ore l'operazione denominata Trinacria 2024 della sezione operativa anti-bracconaggio del raggruppamento Carabinieri di Roma, coordinata dal Centro Anticrimine Natura Carabinieri Agrigento, con il significativo supporto della compagnia di Cammarata. L'operazione è stata condotta nel territorio montano di Cammarata, volta a reprimere fenomeni di bracconaggio in quei territori che ricadono all'interno anche di aree protette. L'attività si è conclusa con il deferimento alla Procura della Repubblica di Agrigento di 13 persone per l'esercizio e la caccia con mezzi non consentiti, porto abusivo di armi, attività venatorie in periodo non consentito e ha portato al sequestro di 8 fucili e due esemplari morti di cinghiale che saranno avviati ai servizi ASP per gli esami autoptici, oggi obbligatori, quale profilassi per la peste suina. Per circa una settimana i carabinieri hanno effettuato diversi appostamenti e controlli nella zona di Cammarata. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in diverse aree del territorio siciliano. Vasta operazione antimafia della Polizia di Stato in provincia di Enna, culminata con l'esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 13 presunti affiliate le famiglie mafiose di Pietra Persia e Regalbuto. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, favoreggiamento personale aggravato, detenzione portobusivo di armi comuni, armi clandestine e da guerra. L'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della procura di Caltanissetta ha portato infatti alla scoperta di due imponenti arsenali nella disponibilità di Cosa Nostra. Durante le indagini sono stati rinvenuti e sequestrati otto fucili, tre mitragliatori e nove pistole, nonché il relativo munizionamento. All'operazione che si è svolta in collaborazione con il personale delle squadre mobile e gli uffici di polizia di diverse città hanno partecipato 180 operatori della Polizia di Stato che hanno eseguito le misure cautelari ed effettuato numerose perquisizioni. Si è concluso con tre condanne e quattro soluzioni lo straccio abbreviato del processo scaturito dall'operazione Dark Community, l'inchiesta su un giro di droghe e maltrattamenti all'interno della comunità oasi di Emanuele di Favara che sulla carta si sarebbe dovuto occupare del recupero di persone con problemi psichici di tossicodipendenza e dove invece, secondo l'accusa, si sarebbe invece spacciato. L'impianto accusatorio che ipotizzava anche una violenza sessuale con annesso ricatto per il pagamento dello stupefacente ne esce fortemente ridimensionato. Il principale imputato, un 41enne di Favara, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione a fronte di una richiesta di oltre 12 avanzata dal pubblico ministero. Il GUP Jacopo Mazzullo ha infatti riqualificato alcune contestazioni. La pena più alta, tre anni e otto mesi di reclusione, è stata inflitta a Carmelo Cusumano, 53 anni di Favara, un anno di reclusione invece per Luigi Capraro, 25 anni di agrigento. L'accusa nei confronti di questi ultimi due imputati aveva chiesto condanne dai quattro e sei anni di reclusione. Il giudice ha disposto altresì l'assoluzione nei confronti di Carmelo Nicotra, 39 anni, di Favara, Gaetano Lombardo, 48, di Favara, Giovanni Colantoni, 28 anni e Salvatore Doro, di 51 anni, entrambi di Favara. Altro episodio di violenze e danni di medici, questa volta è avvenuto all'interno del carcere di agrigento dove un detenuto ha picchiato il medico di guardia, così non si può andare avanti. Dichiara il presidente dell'ordine dei medici della provincia di Agrigento, Santo Pitruzzella, tanti colleghi dice che stanno scegliendo posizioni più comode e sicure, ossia le strutture sanitarie private. C'è il servizio. Ha riportato diverse lesioni, il medico aggredito da un detenuto all'interno del carcere Pasquale di Lorenzo d'incontrata Petrusa ad Agrigento. Un altro grave episodio con i medici che continuano ad essere nel mirino, denuncia il presidente dell'ordine di agrigento, Santo Pitruzzella. Oggi assistiamo a questo ennesimo caso di violenza sui sanitari e sui colleghi, in questo caso è un problema che si sta sempre più ripetendo con aggressioni sempre più pesanti. Come diceva ieri il nostro presidente, si deve fare in modo di cercare qualche soluzione perché non si può assistere più a questa violenza ai medici. e trovare le soluzioni al più presto perché c'è una fuga dei colleghi verso posizioni più tranquille rispetto a posti di lavoro come può essere un pronto soccorso, un ospedale, in questo caso il carcere, della guardia medica, quindi dobbiamo cercare, dobbiamo fare in modo che si dia un poco di tranquillità e sicurezza al personale sanitario. Aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro è una richiesta, certamente anche se è impensabile ottenere la presenza delle forze dell'ordine in tutti gli ambulatori, ospedali, guardie mediche e strutture sanitarie evidenzia il presidente dell'ordine dei medici. Questa sarebbe una soluzione, ma non credo che sia praticabile, perché avremmo bisogno di un esercito intero per presidiare questi posti, quindi intanto credo che alla base ci sia un problema culturale e quindi partendo da questo puoi cercare le soluzioni migliori. In alcuni presidi ospedalieri già c'è la presenza del posto di polizia che è un deterrente per altri casi abbiamo chiesto di evitare, per esempio negli ospedali, i diversi punti di ingresso, ma cercare di avere solo un punto di ingresso e non tantissimi per essere meglio presidiato, poi in termini di vigilanza ci sono le telecamere di vigilanza, ci sono, credo che ora abbiamo fatto pure in alcuni posti di pronto soccorso, alle porte blindate un pulsante che è pigiato e avverte gli organi di polizia, quindi dico molte cose sono fatte, però ancora non abbiamo risolto il problema. Qual è lo stato d'animo, quali sono gli umori che lei avverte tra i colleghi? La sindrome di burnout la fa da padrone, quindi veramente si lavora male, si lavora con l'ansia, con il pericolo incombente della violenza da parte di qualche pagino rosso, chiamiamolo così. Sono quasi tutti i dolosi i 4.730 incendi che hanno funestato la Sicilia nel 2024, provocando danni incalcolabili. Sono i dati diffusi dall'assessorato regionale al territorio e ambiente. Il corpo forestale trova quasi sempre gli inneschi e non si contano più i dossier inviati dopo i roghi e le procure siciliane. La regione lavora alla realizzazione di una centrale di controllo regionale contro i piromani. Sentiamo. Sono incalcolabili i danni provocati dagli oltre 4.700 incendi che hanno funestato la Sicilia nel 2024 in tutte e nove le province. L'assessore regionale all'ambiente Giussi Savarino non ha dubbi. Sono quasi tutti i dolosi. Abbiamo trovato gli inneschi. Anche il capo della protezione civile Salvo Cocina conferma come le fiamme siano state scatenate dalla mano dell'uomo. Non si contano i dossier inviati dopo i roghi alle procure siciliane e la regione pensa al contrattacco. Una control room, una centrale di controllo per non dare tregua ai piromani. I dati dell'assessorato territorio e ambiente parlano chiaro. Nel 2024 in Sicilia ci sono stati 4.730 incendi. Nello stesso periodo del 2023 erano stati 5.300 e addirittura nel 2022 7.180. Il calo è dovuto al fatto che non ci sono state in realtà molte giornate con eventi forti, spiega il capo della protezione civile, e c'era poco materiale combustibile perché erba e sterpaie non si sono sviluppate per la mancanza d'acqua. Quella che non diminuisce invece è l'incidenza degli incendi dolosi. Quasi tutti vengono appiccati dall'uomo. Il corpo forestale trova quasi sempre gli inneschi e le procure indagano. Nella difficile battaglia contro i piromani, ai vertici dell'assessorato territorio e ambiente si lavora per superare la carenza di personale nel corpo forestale. Il primo concorso per 46 agenti è stato annullato dopo i dubbi su alcuni vincitori. L'assessorato adesso sta preparando nuove selezioni. Per un totale di 250 posti nei prossimi due anni serviranno alla gestione della nuova control room regionale contro i piromani. Nel frattempo il presidente Schifani ha sbloccato 25 milioni del PON Sicurezza per un progetto finalizzato a monitorare anche attraverso gli infrarossi le aree più a rischio, con una sala di controllo regionale gestita con la protezione civile in modo da non dare tregua a chi appicca le fiamme. Negli enti locali intanto qualcosa sta cambiando, aumentano i comuni che aggiornano il catastro incendi. Negli ultimi due anni l'assessore regionale Andrea Messina ha nominato i commissari nei centri inadempienti. La regione infine ha siglato anche una convenzione con i vigili del fuoco che collaborano a loro volta con la protezione civile, fondamentale anche il ruolo dei cittadini che possono segnalare attraverso il 1515 e mettere all'angolo i piromani. Un fenomeno come è noto che non risparmia il territorio agrigentino è la stessa città di Sciacca dove la locale procura della Repubblica nei mesi scorsi ha stipulato per la seconda volta un protocollo di intesa con le città che fanno parte della giurisdizione del Tribunale di Sciacca per indurre i comuni ad intervenire attraverso opere e interventi di prevenzione nelle aree di proprie competenza e sollecitare i privati a fare lo stesso. Al liceo scientifico di Menfi il nuovo anno scolastico inizierà lunedì prossimo 16 settembre con le lezioni che si svolgeranno nelle ore pomeridiane e nei locali dell'istituto comprensivo Santi Bivona. Una soluzione temporanea evidenzia il dirigente scolastico Leonardo Mangiaracina in attesa di stabilire se è possibile tornare ad utilizzare i locali del liceo oppure traslocare al centro civico. Sentiamo. Si sta ancora definendo la problematica dei locali del liceo scientifico di Menfi ma da lunedì 16 settembre studenti e docenti inizieranno il nuovo anno scolastico. Le lezioni si svolgeranno nelle ore pomeridiane nei locali dell'istituto comprensivo Santi Bivona. Una soluzione provvisoria evidenzia il dirigente scolastico Leonardo Mangiaracina. Rassicuriamo le famiglie, lunedì cominceremo le lezioni per un breve periodo pomeridiane. Ringrazio a questo proposito la collega Francesca Cusumano che è il cui consiglio d'istituto ha autorizzato la presenza dei ragazzi del liceo quindi partenza regolare. Abbiamo lavorato anche con le ditte di trasporto per fare in modo che i ragazzi non abbiano dei disagi nella frequenza in attesa che le amministrazioni locali trovino la soluzione più idonea. Devo dire che ho trovato grandissima disponibilità sia dalla provincia che dal comune di Menfi che si è subito attivato a seguito della nostra segnalazione che c'era qualche problema. Sul tavolo ci sono tante ipotesi da un'analisi della struttura esistente che può certificare che è compatibile ancora con l'uso a quella del centro civico però su questo io non voglio fare anticipazioni perché la palla è fuori dal mio campo e ci penserà l'amministrazione comunale a trovare la soluzione più adatta. Si stanno effettuando sostanzialmente dei rilievi tecnici sulla struttura da sempre utilizzata dal liceo scientifico quindi l'idea di continuare a utilizzarla non è del tutto esclusa al momento. No infatti è anche l'idea che è più ospicata da tutti perché lì abbiamo la possibilità di erogare un servizio già da subito che era il migliore con laboratori. Insomma quello è il luogo in cui tutti dobbiamo secondo me lottare per rimanere. Però appunto come dice la legge del 215 del 2021 è l'ente locale che deve dirmi se questo diciamo questo edificio è adatto o no qualora temporaneamente non lo fosse perché ho visto che il sindaco è diciamo motivato anche a effettuare lavori di manutenzione o lui o la provincia potremmo diciamo scegliere altre altre strade ma ripeto questa è una scelta. Noi facciamo il lavoro di progettare, erogare e portare a termine la formazione dei ragazzi. L'ente comunale ha lo scopo di darci l'edificio adatto. Un edificio adatto potrebbe essere quello del centro civico qualora la struttura necessiti di interventi? Sì abbiamo già fatto con l'amministrazione comunale un sopralluogo. È una bellissima struttura che nel frattempo potrebbe sicuramente svolgere a pieno la propria funzione. c'è anche un teatro insomma gli spazi sono penso che possa essere un posto anche diciamo prestigioso per ospitare i ragazzi per fare in modo che la loro crescita possa essere guidata in maniera completa e professionale. Capisco che non è di sua competenza però che tempistica si può prevedere al momento cioè fino a quando docenti e studenti del liceo scientifico dovranno effettuare queste lezioni il pomeriggio che ovviamente non è insomma il massimo diciamo così. Senz'altro noi comprendiamo il disagio dei ragazzi e delle famiglie. Io in questo momento non riesco a fare una previsione di tempi perché ripeto essendoci sul tavolo ogni soluzione presuppone dei tempi diversi quindi però su questo posso essere sicuro spingeremo perché siano di breve respiro cioè io non credo che andremo molto lunghi perché il pomeriggio è una situazione un po' veramente scomoda. In corso un intervento di potatura al cimitero comunale di Sciacca. A darne notizie il sindaco Fabio Termine e l'assessore Fabio Leonte. L'intervento che riguarda la potatura di cipressi lungo i viali consentirà il passaggio della spazzatrice per la relativa pulizia. Il servizio è stato affidato alla ditta Sciacca Garden e avrà la durata di 10 giorni. Il sindaco Termine e l'assessore Leonte fanno inoltre sapere che a breve si procederà anche ad asfaltare un tratto di strada della parte nuova del cimitero al fine di consentire un accesso pedonale più sicuro. Illuminazione artistica nel centro storico di Sciacca. Stanno per essere aggiudicati i lavori di rifacimento degli oltre 50 corpi illuminanti destinati a valorizzare artisticamente i monumenti della città che erano stati collocati diversi anni fa. Un impianto che ha smesso di funzionare subito dopo essere stato attivato e che con il tempo è caduto nel degrado. L'assessore Salvino Patti ad annunciare che grazie ad un finanziamento di 130 mila euro si potrà restituire alla città l'illuminazione artistica della Basilica Maria Santissima del Soccorso, chiesa del collegio di piazza Purgatorio, piazza Matteotti e del palazzo municipale di Via Roma. I lavori che partiranno a breve, dichiara l'assessore Patti, daranno nuova luce al centro storico rendendolo ancora più accogliente e affascinante sia per noi residenti sia per i visitatori. C'è anche la Copagri di Sciacca tra le organizzazioni professionali che si occuperanno di distribuire il fieno alle aziende zootecniche colpite dalla siccità. Quattro i punti di concentrazione del foraggio per gli animali. Ne abbiamo parlato con Nino Indelicato, presidente di Copagri. Sentiamo. Sono quattro, rispettivamente Burgio, Caltabellotta, Sambucca di Sicilia e Sciacca, i punti di distribuzione del fieno per la cinquantina di aziende zootecniche della zona che saranno gestite dalla Copagri di Sciacca. Si tratta dei bonus che la regione siciliana ha messo a disposizione degli allevatori per provare a limitare i danni dovuti alla siccità. Quattro siti dove raggruppiamo per creare meno problemi agli allevatori. Questo è un provvedimento regionale? Questo è un provvedimento regionale. E voi siete stati individuati come enti intermedi? Allora, non solo noi, perché le organizzazioni di categoria hanno elementi conoscitivi, non indifferenti. Quindi come associazione intermedia voi farete questo? Sì, abbiamo contribuito a dire che noi dobbiamo snellire. Poi ci mettiamo tanto del nostro, perché alcune che si erano date disponibili rispetto al fieno che potevano avere alle quantità, poi in corso d'opera si è visto che abbiamo cercato fieno in tutta Italia, perché dovevano avere determinate caratteristiche le fieno, non doveva essere una paglia stierele. E quanto fieno distribuirete? Ma sono 311.275 kg, quindi sono una bella, diciamo, contestazione, perché abbiamo 40-50 aziende, va bene, zootecniche, regolarmente iscritti. Fieno gratis è calcolato in quantità sulla base dell'intensità del danno subito sui territori in base alle precipitazioni rilevate dal servizio informativo agrometeorologico siciliano. Dove si dà, diciamo, il fieno gratis al 100%, però facendo delle differenze rispetto al danno subito con delle aree. Aziende zootecniche che nelle nostre zone nel frattempo stanno diminuendo e di cui si parla sempre troppo poco. Se ne parla poco perché il numero di aziende sono diminuiti, va bene, e sono diminuiti anche, però in maniera minore, i capi all'interno delle aziende, perché magari diminuiscono le aziende, si fondono, eccetera, quindi ne perdono un po', eccetera. Però nel circondario di Sciacca, di Ribera e di Bivona, se si arrivasse ad avere un'uniformità, un impegno comune di tutte quelle che sono in regola, perché non dobbiamo dire le nostre verità, ce le dobbiamo dire in faccia, per tutte quelle che sono in regola si potrebbe trovare una dinamica, una quadra per poter dare delle risposte al consumatore e se io produttore, se io allevatore do risposte al consumatore, chiaramente, implicitamente do una risposta a me e quindi a un tessuto socio-economico. Con Nino Indelicato abbiamo parlato anche dell'emergenza per i campi, denuncia il presidente di Copagri che la Sicilia sconta anche mancati investimenti sulle dighe. In Sicilia ci sono 46 dighi, teoricamente. Praticamente quelle che approvvigionano una certa quantità d'acqua sono 29. Teoricamente potrebbero approvvigionare 700 milioni di metri cubi d'acqua. Invece, dettato anche dal periodo della siccità, ne abbiamo approvvigionato per l'anno 2024, mi riferisco io a aprile-maggio, quindi dall'inizio delle regazioni, circa 150 milioni, significa nemmeno il 20%. 46 dighe, soltanto 29 quelle attive. Questo cosa significa? Che se la Regione, evidentemente, fosse intervenuta sulle altre dighe non funzionanti, oggi non sconteremmo questa emergenza? Assolutamente sì, perché se ce ne sono 29, il restante, la differenza fino a 46, non sono utilizzabili, perché incompleti, perché dimenticate nei cassetti i progetti, anche se iniziate e quant'altro. Ma all'interno dei 29 ancora, la beffa qual è? Che non tutte le dighi possono arrivare alle quantità di collaudo, perché la maggior parte, una buona parte, non sono collaudate. Per la versione integrale dell'intervista a Nino Indelicato, vi rimandiamo al termine dei nostri telegiornali odierni. Continua la fuga dei giovani dalla Sicilia. La seconda regione in Italia per immigrazione giovanile è con una percentuale di persone in cerca di un'occupazione che sfiora il 45%. CGL e Will parlano di circa 50.000 giovani che ogni anno vanno via dalla Sicilia. Non è solo la ricerca del lavoro, c'è anche la fuga verso le università che deve preoccupare, commenta Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGL. Sentiamo. Forti difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, una disoccupazione che arriva al 31% rispetto alla media nazionale del 16% e continua la fuga dei giovani dall'isola. Secondo i dati diramati da CGL e Will, la Sicilia è la seconda regione per emigrazione giovanile. Si stima che ogni anno circa 50.000 giovani vanno via dall'isola non solo perché non trovano lavoro, ma perché quando lo trovano è spesso sottopagato. Non solo il lavoro deve preoccupare anche la scelta di andare via dalla Sicilia per gli studi universitari, dichiara Alfonso Buscemi, segretario provinciale della CGL da Grigento. Sono numeri crudi, numeri reali che indicano il malessere della nostra regione, della nostra provincia, che indicano la difficoltà delle famiglie, perché emigrano tantissimi giovani per diverse ragioni. Prima di tutto, certamente, perché non trovano un lavoro e va aggiunto, non trovano un lavoro che sia riconosciuto appiena la dignità di lavoro. Oggi, mediamente, il lavoro è sottopagato per tutti. Per i giovani la cosa diventa ancora più grave, perché spesso in un mondo dove in provincia di Agrigento, come esempio, lo porto, ma vale per la Sicilia, non ci sono più disponibilità di mano d'opera, specialmente quelle mansioni specialistiche. Questo avviene perché i giovani non vengono retribuiti secondo le norme. Già abbiamo contratti collettivi di lavoro sottopagati, ci sono anche dei contratti che pagano 6-7 euro l'orda. Se noi poi ci spostiamo nel settore dei servizi, ci riempiamo la bocca del turismo, quello che c'è dentro gli alberghi, dentro i barri, dentro i ristoranti, dentro i negozi, lì ancora, neanche quella dignità di contratti collettivi rispetto alle ore che fanno. Ecco perché i giovani sono stanchi di queste cose e preferiscono andarsene. Poi a questo va aggiunto anche tutto il mondo collaterale. Si parte dallo studio. Prima ci si laureava in Sicilia e poi si emigrava. Oggi spesso vanno via anche per lo studio. E questo deve fare riflettere la classe politica che dirige la regione Sicilia oggi. Significa che incide molto la qualità dell'università, ma incide anche la qualità che ruota attorno ai servizi all'università. Proprio la CGL di Agrigento nei giorni scorsi ha lanciato un allarme rispetto a un condensioso con l'università di Palermo. Noi rischiamo di perdere anche questo punto di riferimento che negli ultimi anni è stato molto importante per centinaia e centinaia di famiglie che non avrebbero potuto consentire uno studio fuori la provincia e i propri figli con la crisi che morde tutte le famiglie. Reddito di libertà. Il contributo previsto per le donne vittime di violenza finanziato dalla regione è insufficiente a soddisfare le numerose richieste pervenute. A chiedere un intervento a Lars in vista della nuova manovra finanziaria è la parlamentare del PD Giovanna Iacono. Vediamo. I 236 mila euro finanziati per il reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza in Sicilia sono completamente insufficienti. Molte richiedenti infatti sono rimaste fuori per carenza di copertura della misura. È quanto denuncia la parlamentare del Partito Democratico Giovanna Iacono che chiede un intervento a Lars in vista della nuova manovra finanziaria. Prima della pausa estiva spiega abbiamo presentato una interrogazione alla presente del Consiglio e alla Ministra per la Famiglia sulla misura di sostegno economico per le donne vittime di violenza. Abbiamo chiesto di adottare con urgenza il decreto di assegnazione delle risorse all'Inps destinate al cosiddetto reddito di libertà. Nonostante la Ministra l'indomani ci abbia rassicurato e nonostante l'approvazione dell'emendamento delle opposizioni alla legge di bilancio 2024 che ha stanziato 40 milioni di euro complessivi per implementare il fondo che può essere integrato dalle regioni molte di loro non hanno avuto accesso al sostegno. La situazione riguarda anche se non soprattutto la Sicilia. Giorni fa l'assessore Albano continua Giovanna Iacono ha comunicato la pubblicazione di un avviso a Sportello rivolto ai comuni con cui la regione ha stanziato 236 mila euro. Se non ci fosse da piangere verrebbe da ridere in Sicilia molte delle richieste notrate all'Inps non sono state accolte per esaurimento del fondo e tantissime donne non hanno potuto accedere al sostegno che risce la Iacono. È chiaro che le risorse di cui parla sono ampiamente sottodimensionate rispetto alla richiesta. Per questo la speranza è che con la nuova manovra che sarà portata all'Ars si possa prevedere una copertura economica per questa misura che aiuta le donne vittime di violenza nei percorsi di autonomia dopo il periodo di cura e di rifugio. Del resto, conclude Iacono, con la manovra estiva sono state finanziate le sagre e le squadre di calcio e sono state date risorse ai sinneci agli amministratori, alle fondazioni e alle associazioni senza nessun avviso pubblico e senza alcun criterio oggettivo. Proviamo a fare in modo che nessuna donna resti indietro conclude la parlamentare del PD. Va in onda questa sera alle 20 sulla nostra emittente Ciao, vi c'è, lo spettacolo tributo che la Compagnia dell'Isola di Sciacca ha dedicato lo scorso 4 agosto al Vincenzo Catanzaro, scrittore, attore, drammaturgo, commediografo e regista scomparso il 12 settembre di un anno fa. Uno spettacolo tributo organizzato dai figli di Vincenzo Catanzaro, Salvatore e Filippo che ha visto anche il ritorno in scena della moglie di Vincenzo Catanzaro. Liliana, a bene. Vediamo. Calmano gli venti, Entra l'umare senti come un canto Con centumila stili rilucenti il cielo si ricama l'usomanto e poi lo stenni leggero e trasparenti supera la terra l'omini e le genti. La voce recitante di Vincenzo Catanzaro a conclusione dello spettacolo Ciao, vi cede lo scorso 4 agosto nell'altro inferiore del comune di Sciacca è stato senz'altro uno dei momenti più commoventi della serata tributo che la Compagnia dell'Isola che l'attore, scrittore, regista, commediografo e drammaturgo Fondona il 1990 ha voluto organizzare per celebrare un grande uomo di cultura che moriva esattamente il 12 settembre di un anno fa. E in occasione di questo anniversario stasera alle 20 trasmetteremo per la prima volta sul canale 80 di Telemonte Cronio quella serata organizzata dai figli di Vincenzo, Salvatore e Filippo che si sono assunti l'onere di continuare a garantire la presenza della famiglia Catanzaro nel nome di una personalità così carismatica come è stato il padre. All'interno della manifestazione Ciò vi c'è è stato conferito anche il premio Vincenzo Catanzaro assegnato quest'anno a Guglielmo Ferro regista teatrale figlio di Turi Ferro grande amico di Vincenzo Catanzaro. Una gioia stare qua una gioia essere qua in questa festa una gioia rivedere Sciacca devo dire che è un posto magico. Noi ti ringraziamo intanto per aver accettato l'invito a essere fra di noi. Dicevamo di momenti commoventi della serata ce ne sono stati diversi un altro di questi è stato sicuramente il ritorno sul palcoscenico e per lei non è stato facile di Liliana Bene che con Vincenzo Catanzaro ha condiviso non solo un grande amore ma anche una grande reciproca stima artistica. E tra tre mesi quando si marita tuo figlio noi ne facciamo un'auce a Spagna che cosa? Luna di miele. San Luca di qua non si muove e mi ho dovuto fare le mie brave nemicizie perché da allora qualcuno non mi saluta più. Una serata bellissima con sketch e momenti recitati comici e drammatici e anche una riunione con la presenza di tante persone che hanno fatto parte in passato del mondo di Vincenzo Catanzaro. da Santo D'Aleo al nostro Nicola Puleo un grandissimo ringraziamento addirittura andando fuori da Sciacca al nostro Pietro Barbaro che è stato così gentile e davvero un amico come gli altri e poi a Franco Bruno che con noi ha calcato tantissime volte di palcoscenico. Le congiasti e le dolure tutto si impregna di sensualità tutto si immerge d'aste infinità. 1500 euro a tanto ammonta nel ricavato della serata di beneficenza ieri sera nell'atrio inferiore del comune in favore della mensa della solidarietà di padre Pasqualino Barone città di Sciacca che ha confermato la propria generosità partecipando allo spettacolo aggiungi un posto a tavola. Ce ne parlano Emito Unmione. Solidarietà e spettacolo ieri sera nell'atrio inferiore del palazzo municipale di Sciacca dove si è svolta l'ottava edizione della festa in favore della mensa della solidarietà creata da padre Pasqualino Barone e sostenuta dal suo gruppo di volontari. La città ha risposto ancora una volta con grande generosità massiccia la presenza di pubblico che ha assistito allo spettacolo aggiungi un pasto a tavola durante il quale sono stati raccolti circa 1500 euro che andranno chiaramente alla mensa per continuare la sua preziosa attività in favore di persone e famiglie bisognose. Uno spettacolo entusiasmante e divertente presentato da Mari Cabilello e Leonardo Turturici durante la serata c'è stato anche l'intervento dell'assessore Agnese Sinagra che a nome dell'amministrazione comunale si è impegnata a garantire attenzione e sostegno alla mensa della solidarietà che quest'anno compie 13 anni. Poi spazio allo spettacolo che si è articolato in tre diversi momenti hanno iniziato i Gospel Friends che hanno entusiasmato e trascinato il pubblico con un repertorio di brani classici molto apprezzati. Poi è stata la volta della scuola di Ballo de Mambo Kings i cui allievi hanno proposto varie coreografie creando un momento di spettacolo frizzante gioioso e anche questo assai apprezzato. Il momento finale della serata è stato affidato all'attore poeta e cabarettista Pippo Graffeo che ha regalato al pubblico un momento di grande comicità e ironia affrontando controversie e questioni cittadine prendendo di mira fatti e personaggi noti. C'è problema sanità? C'è problema sanità? Dove vi faccio a lei? Noi problemi di sciacca non sono quelli quella sanità viene dopo prima avevamo un problema quando le varie andavamo a fare il centro storico andavamo a fare la perrella e se va ci sono i problemi della città. Anzi abbiamo fatto 17 consigli comunali per poter stabilire se vi è chiudere e ciò e quattro le notte. Ma immaginate con i problemi nella città pensate a quel cittadino che ha questo frontevo di sbagliarsi sempre a cura di Pippo Graffeo non è mancato un momento di poesia dedicato alle bellezze e alla storia di sciacca la serata si è chiusa con l'immancabile sorteggio che ha distribuito regali e premi a tutti i presenti. I consigli della Mondadori a giugno a Montepepè si prepara all'arrivo dell'estate che è Camurria da due anni ormai nel piccolo borgo immerso tra le montagne siciliane si attendono orde di turisti curiosi di assaggiare gli arancini più famosi dell'isola e non solo e conoscere Rosa Nunziatina Maria Giuseppe e Sarina le signore di Montepepè proprietarie dell'ormai noto Regno degli Arancini fra mori finiti nuove relazioni che stanno per cominciare partenze arrivi delusioni speranze nel cuore c'è una novità che le rende elettrizzate e preoccupate allo stesso tempo Luciano Bellini ex direttore di un albergo poco distante da Montepepè chiamato a Parigi a dirigere un hotel a 5 stelle ha invitato le signore di Montepepè nella capitale il loro compito è incantare i clienti più ricchi ed esigenti dell'albergo con una cena sontuosa a base dei profumi dei colori e dei sapori dei piatti siciliani e Parigi è il luogo adatto per sognare circondati dalla bellezza e dall'eleganza e perché no imbattersi anche in un nuovo amore specialmente perché ormai non ci crede più una commedia brillante fra la Sicilia profonda e la ville Lumière Granita e Baguette una notte d'amore a Parigi di sapore di Sicilia le signore di Montepepè di Catena Fiorello Galeano Edito Giunti è davvero tutto il nostro TG finisce qui grazie per la vostra attenzione arrivederci